Il mio nome è Federico Ratti e sono il direttore tecnico dell'SCM Group. L'SCM Group produce un centro di maschinenza per lavorare con l'olio. E produce un maschinenza per lavorare con pannelli e per lavorare con l'olio. Abbiamo prodotto tutte le maschinenza per lavorare con l'olio, per lavorare con l'olio, per lavorare con l'olio, per lavorare con pannelli per la casa. Il mio nome è Bruno Ballosino e sono il direttore del prodotto del prodotto di DMC, parte dell'SCM Group. Qui abbiamo una configurazione di maschinenza specializzata per veneer, lacquer e finire all'olio. e finire all'olio e finire all'olio. In questa configurazione è la configurazione standard. Un'olio azzurro al principio della maschinenza per presentare il pannelli. Un'olio azzurro. Un'unità planetaria per aprire l'olio. Un'unità superfinite per finire all'olio e finire all'olio e all'olio. Nella macchina abbiamo la possibilità di cambiare rapidamente il lavoro da un tipo di finiscia all'olio. con l'olio della automatizzazione di Beyond Air possiamo gestire diversi tipi di lavoro, cambiando rapidamente da un lavoro a un altro lavoro. Possiamo gestire la velocità del pannelli, la velocità di ogni unità del belto e quale tipo di unità necessario per questo finiscia. Grazie all'olio di Beyond Air possiamo accettare a quali tipo di parametro che il cliente necessita per un tipo di lavoro. Grazie a tutti.